è una ricetta antichissima a 900 anni di storia una ricetta che serve per nutrire lo yin del rene del fegato indirizzata in particolare a trattare disturbi oftalmici che vanno dalla xero oftalmia alla visione offuscata alla fotofobia alla fotosensitività alla lacrimazione eccessiva ma anche disturbi molto più importanti come la retinite, l'atrofia del nervo ottico il glaucoma o disturbi oftalmici come complicanza del diabete in realtà si tratta di una modifica di un'altra ricetta, l'you way di guanguan alla quale vengono aggiunti il licium che vediamo a sinistra, le bacche di licium e a destra il fiore del juhua, il chrysanthemum morifolium Chen Yi è l'autore di questa ricetta nacque nel 1032 ed è vissuto per 80 anni fino al 1113 nel periodo della dinastia Song Chen Yi pare sia rimasto orfano di entrambi i genitori e sembra sia stato adottato dagli zii e da questi cresciuto e introdotto alla pratica della medicina tradizionale cinese divenne un medico molto famoso e guadagnò il ruolo di Tai Yi, cioè di medico principale della famiglia imperiale si dedicò in particolare alla diagnosi e al trattamento delle patologie pediatriche che studiò a lungo per tutta la vita e che insegnò a numerosissimi discepoli sei anni dopo la sua morte avvenuta nel 1113 i suoi discepoli diedero alle stampe perché a quel tempo in Cina già si stampava un volume nel quale avevano raccolto tutti i suoi insegnamenti il volume si intitolava, come vedete in questa immagine, Xiao Er Yao Zhen Ji Yue cioè manuale del trattamento farmacologico delle patologie pediatriche ed è stato edito nel 1119 tra le formule di questo volume compare per la prima volta il Liu Wei di Wang Wan la pillola dei sei sapori a base di remania che in realtà è una modifica di una formula inventata otto secoli prima dal medico Zhang Zhong Jing e ovviamente compare anche il Ciju di Wang Wan e cioè la formula che analizziamo in questo video che non è nient'altro che una modifica del Liu Wei di Wang Wan il Ciju di Wang Wan infatti, come ho già detto, è il Liu Wei di Wang Wan vediamo qui i suoi ingredienti, sono sei la remania glutinosa, il fructus corni, il rizoma della dioscorrea, il rizoma lismatis la cortex moutan radicis e lo sclerosium pore cui però vengono aggiunti il Liu Wei di Wang Wan è disponibile ovviamente sotto forma di compresse ma si può fare anche una ricetta magistrale così come è disponibile sotto forma di compresse e di ricetta magistrale il Ciju di Wang Wan la sintomatologia alla quale si rivolge questa formula è quella del deficit di Yin di fegato e rene complicato da una sintomatologia oftalmica dunque abbiamo come segni generali del deficit di Yin quelli che vedete in questa slide debolezze dell'onzia lombari, debolezza dei ginocchi e gonalgia e poi vertigini, acufeni, ipoacusia, qualche volta ansia, amnesie la sudorazione notturna, nell'uomo la spermatorrea, le polluzioni notturne e poi la secchezza delle fauci, il calore ai cinque cuori e la stipsi c'è cioè un deficit di Yin che manifesta i suoi effetti a vari livelli al livello dell'intestino, al livello della regione lombare perché colpisce ovviamente il rene ma si manifesta anche con sintomi che riguardano l'estremità cefalica la lingua in questi casi è rossa, spesso incisa da fenditure la patina è assente oppure è una patina sottile e asciutta il polso è fine perché manca lo Yin ed è rapido per la presenza di calore ma in realtà questa sintomatologia di base che è quella classica del deficit dell'Yin al quale vanno incontro per esempio molte donne durante il periodo meno pausale si associano disturbi oftalmici e sono quelli che vediamo in questo slide e cioè la fisione offuscata, la xerooftalmia, la secchezza oftalmica cioè la fotofobia, la fotosensitività o anche la lacromazione eccessiva in seguito a esposizione al vento ma poi anche patologie oftalmiche più importanti come la neurite retrobulbare, la retinite, l'atrofia del nervo ottico, le opacità vitreali, il glaucoma o disturbi oftalmici come complicanza del diabete per tutte queste patologie trova indicazione il Qigiu di Wangwan e per queste patologie è stato anche testato dalla ricerca biomedica occidentale vediamo alcune immagini della lingua che caratterizza questo quadro sindromico abbiamo detto che è una lingua arrossata, una lingua asciutta, spesso incisa da fenditure le fenditure possono essere anche profonde e sono proprio l'esito del deficit dello Yin cioè della secchezza dei tessuti che si manifesta in maniera profonda dal punto di vista delle applicazioni in biomedicina vediamo in primo luogo appunto le applicazioni che si hanno a livello di disturbi oftalmici xerooftalmia, fotofobia, fotosensitività e poi retinite, glaucoma, disturbi oftalmici come complicanza di diabete ovviamente dietro questi quadri sindromici ci sono quelli classici del deficit dello Yin cioè le nevrosi ansiose, le sindrome d'ansia, l'insonnia, la sindrome climaterica, la lombalgia, i disturbi neurovegetativi e poi come vedete tutta un'altra serie di patologie nelle quali può trovare applicazione si va dall'ipertiroidismo e l'ipertensione arteriosa all'infertilità e l'aborto abituale alle infezioni croniche delle virunarie alla prostatite agli effetti collaterali di chemio e radioterapia vediamo di nuovo la formula nei suoi componenti al centro troviamo i componenti classici del Wei di Wang Guan a sinistra invece troviamo Gou Chizu e il Zhuhua sulla destra per quanto riguarda questa formula è famosissima in quanto tonificando lo Yin di rena e fegato è in grado di adattarsi a un numero enorme di patologie estremamente diffuse in occidente e i farmaci di questa ricetta possono essere divisi in due gruppi che interagiscono tra loro il gruppo delle sostanze toniche e il gruppo dei rimedi drenanti a questi due gruppi vengono aggiunti appunto come ho già detto Gou Chizu, Fructus Leechi e Zhuhua Gou Chizu, lo vediamo in questa immagine, è un farmaco di natura neutra e sapore dolce che si indirizza fegato e rene, nutre il sangue di fegato all'effetto di sostenere il Jing, di nutrire lo Yin di rene e polmone e di schiarire la vista per cui è particolarmente indicato negli offuscamenti visivi nella diminuzione della vista da deficit di sangue e da deficit di Jing di fegato e rene il Zhuhua che vediamo in questa immagine non è nient'altro che il fiore della camomilla cinese il fiore della camomilla cinese è un farmaco di natura fresca e di sapore dolce, amaro e piccante che viene utilizzato in medicina tradizionale cinese per liberare l'esterno del corpo dal vento calore purifica il calore di fegato, rischiara la vista, sede il fegato e ne estingue il vento questo farmaco si indirizza al fegato e come sappiamo nella medicina tradizionale cinese l'occhio è nella sua globalità sotto il governo del fegato e spesso patologie oftalmiche caratterizzate da secchezza o da deficit di sangue riguardano questo organo abbiamo poi a questi due farmaci che si aggiungono alla ricetta di base i sei prodotti della ricetta di base l'imperatore della ricetta è Xu Di Wang che vediamo in questa immagine che ha il compito di nutrire il rene yin e di far fronte al problema principale di deficit di yin poi abbiamo i due ministri Shang Jiu Yu e Shang Yao Shang Jiu Yu lo vediamo in questa immagine ha il compito di tonificare e contenere lo yin di fegato mentre Shang Yao ha il compito di trattare milza pancreas per stabilizzare lo yin all'interno del corpo quindi Xu Di e Shang Jiu Yu agiscono più direttamente sullo yin congenito mentre Shang Yao tonifica e nutre l'acquisito abbiamo poi tre rimedi drenanti e li vediamo Zesie, Mudampi e Fuling Zesie è il rizoma lismatis che vediamo in questa immagine agisce con effetto drenante e mobilizzante in presenza di un difetto dello yin infatti lo yang tende a manifestarsi in alto con effetti della sua prevalenza Zesie tratta il fuoco di origine renale secondo la tradizione medica cinese mentre Mudampi riduce il fuoco di origine epatica Mudampi non ha nient'altro che la corteccia della radice della peonia Moutan e da ultimo abbiamo Fuling Fuling è un farmaco diuretico che in realtà però ha anche una importante azione tonica tonifica Milsa Pancreas e impedisce che gli altri farmaci producano in una situazione di deficit una stasi, un ristagno di cie e di umidità le azioni farmacologiche di questa ricetta che sono state studiate in ambito biomedico sono quelle che vediamo in questa immagine a azione ipoglicemizzante, a azione immunostimolante e a azione adattogenica sono stati effettuati numerosi studi clinici in particolare questi studi clinici riguardano la retinite, l'opacità vitreale ed altri studi vediamo anche qui su PubMed due studi che riguardano questo prodotto il primo nel trattamento della ipertensione e il secondo invece nel trattamento della xeroftalmia, della secchezza oftalmica chi volesse approfondire questi argomenti può utilizzare due volumi farmacologia cinese che ho scritto insieme ad altri sei colleghi per la casa editrice ambrosiana del gruppo Zanichelli questo volume fa parte del trattato di avopuntura e medicina cinese in sei volumi oppure per chi volesse un volume molto agile abicina fitoterapia cinese edito dal sito ilmiolibro.it dove si può scaricare anche come ebook video di medicina dall'Italia alla Cina a cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su avopuntura medicina cinese medicina integrata